Si paga troppo e dovrebbe tornare in mano pubblica, questa è un po' la sostanza delle voci che abbiamo raccolto qui in centro ad Arezzo. Poi ci sono però anche alcuni cittadini che sono favorevoli a che la gestione del servizio idrico rimanga in mano. Addirittura ci dicono ai francesi, quindi identificano proprio la Léonnet d'Eso come l'azienda, quindi la componente privata che dovrebbe rimanere della partita. Ma sentiamo le voci di tutti i cittadini. No, non sono contento assolutamente, è troppo cara. Per me sì, almeno io la penso così. Quindi dovrebbero abbassare le tariffe? Sì, dovrebbero abbassare le tariffe, sì. Rispetto alla qualità? Ma la qualità non mi lamento come qualità, però il prezzo, ripeto, è troppo alto. Scusi, le posso chiedere se è contento della sua bolletta dell'acqua di qualità-prezzo, diciamo? Mai, impossibile, sempre altissima. Costa quasi più della corrente qualche volta, è una cosa pazzesca. Secondo lei che cosa dovrebbero fare i comuni, il gestore? Che fare? Non capisco perché poi il referendum che si è fatto non è stato mai approvato. Che ci rimando a fare il referendum, a votare, se poi dopo non vengono approvati quello che decide il popolo e la gente. Non capisco perché si è bloccato, si è allenato. Non ho seguito bene la cosa. Quindi secondo lei dovrebbe tornare in mano pubblica? Sicuramente. Almeno si spera che si risparmia così perché da quando la prossima mano ha nuove acque mi sembra che è stato sempre un crescente d'aumenti, si è pagato sempre. Poi sentendo un po' i pareri di persone che stanno dietro a queste situazioni dicono che siamo in Italia, mi parlo in Toscana, è la terza, la quarta città che si paga più di tutto. Non so se è vero o no, non ho modo per riscontrarlo, ma penso di sì perché si risparmia l'acqua, si sta molto attento all'acqua più che alla luce che al metano parecchie volte perché è una cosa pazzesca. Non lo so perché non ho idea di quanto sto pagando per la bolletta dell'acqua, quindi vi ho dato un aiuto in modo importante e sostanziale. Non so se i francesi quanto mi mettono nella bolletta dell'acqua, però sono favorevole a francesi per gestire l'acquedotto. Sì che sono contenta. Quindi le sembra un giusto rapporto qualità-prezzo? Ma io sinceramente non mi ci soffermo perché le bollette, guarda, è una tragedia tutte quante, acqua, gas, corrette, mi sembra che sia tutto un gran pasticcio. Si paga troppo, si paga poco? Secondo me si paga troppo. No, tanto io ne consumo poca poca. Ma le sembra cara la bolletta o no? Ci sa il pozzo noi, non ci sa quella comunale, c'è il pozzo. Ah, con la sua, insomma. Sì, sì. Le sembra cara o no? Abbastanza, sì, quello sì, è un po' alta. Secondo lei però è di buona qualità l'acqua? Sì, quello sì. La qualità è buona rispetto ad altri posti, è bevibile. Tutto sommato è contento del servizio o no? Sì. 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 Sì.